Nel Terramano negli ultimi giorni sono state diverse le persone ricoverate presso il lotto 3 dell'ospedale Mazzini dopo aver contratto il covid e sviluppato la polmonite. Tutte persone non vaccinate. Ad alimentare la diffusione del virus, secondo le valutazioni degli esperti, sono giovani, giovanissimi, le vacanze, le feste estive, complice alla più contagiosa variante delta, che è divenuta prevalente con picchi che raggiungono il 90%. Attualmente sono 15 le persone che sono ricoverate presso l'ospedale di Terramo, nessuno è vaccinato, abbiamo un trentenne dopo uno di 50 anni e il resto sono tutti over 60, due soli sono in condizioni un po' più gravi con il NIV, hanno questa applicazione in una ventilazione che gli consente appunto di agevolare la respirazione. Ecco, questo è il dato, una situazione che negli ultimi giorni sta diventando un po' problematica e quindi bisogna prestare attenzione anche perché a fronte dell'incremento dei ricoveri ospedalieri c'è anche una recrudescenza dei fenomeni di contagio e quindi questo un po' preoccupa. Secondo lei il fatto dei festeggiamenti degli europei ha portato a un aumento di contagio? Non è solo il festeggiamento degli europei, ma sono tutte queste attività ludiche che vengono svolte dai giovani, da tutti e di conseguenza il risultato non è questo. Se non ci impegniamo a vaccinare, se non usiamo le precauzioni la situazione scapperà sicuramente di mano. Anche tutte queste sacre che vengono fatte in questi giorni non è una bella cosa di fronte a questo fenomeno di ripartenza che c'è. L'invito ovviamente è quello di fare massima attenzione e vaccinarsi il prima possibile per chi non l'ha fatto. Io non smetterò mai di dirlo e non ho smesso mai di dirlo sin dall'inizio perché sono le uniche armi fondamentali che abbiamo per sconvincere questa pandemia.